Amica, amica dello sport, amica, pezzettino bellissimo, fantastica, che bello, va in mezzo al verde. Allora, c'è da dire, personalmente, amica di famiglia, perché è un ricordo di una persona veramente eccezionale, quello che era la Fiorella e ogni volta che si passa di qui Fiorella, tu sarai con noi, nei nostri pensieri, nel nostro cuore, anche perché è bellissimo il pensiero di sentire, è bellissimo anche chi ha lasciato questo, dedicato a Fiorella che da su là ci guarda.